Allora, agli amici di Ciò a Como presentiamo anche l'ultimo degli arrivati in Casa Azzurra, oggi li abbiamo già visti tutti i tre, questo è il quarto, Antonio Palma. Antonio, allora innanzitutto benvenuto a Como, ben arrivato a Como, quali sono le tue caratteristiche? Presentati soprattutto ai tifosi del Como. Grazie per il benvenuto, allora io sono un centrocampista centrale ma che posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, come per esempio anche la mezzala e talvolta posso fare anche il trequartista all'occorrenza. D'utile, versatile, va bene qualsiasi posto pur di giocare. Posso giocare, posso fare anche il portiere. Da dove arrivi Antonio? Allora io sono dei proprietari dell'Atalanta e i primi sei mesi l'ho trascorsi a Ranocerina. Ecco, situazione un po' difficile da quelle parti, giusto? Ma sinceramente io mi sono trovato molto bene, soprattutto all'inizio. Poi sappiamo tutti che sono successi dei fatti particolari che hanno un po' inclinato quello che poteva essere una stagione importante. Personalmente mi sono trovato bene, comunque ho fatto tante partite e posso solo ringraziare la Nocerina e il mister, il direttore, i miei compagni. Ma adesso si volta a pagina Antonio. Esattamente, sono qua per continuare a migliorare. Sono venuto in una piazza importante e voglio dare il mio contributo alla squadra. Come l'hai vista la squadra? L'hai già vista? L'hai già avuto modo di vedere? Sì, domenica sono stato convocato, sono anche entrato. È un'ottima squadra che ha ottime qualità tecniche, ma anche murali. Ci sono molti giocatori esperti che sono i leader e a mio avviso possiamo toglierci belle soddisfazioni e continuare a lavorare seguendo il mister.